Il mese di luglio del 2020 in pieno covid sono successi fatti incredibili nel campo della tutela sul piano internazionale. A luglio la Turchia decide, ma l'aveva già pensato molto prima, il procedimento legale era iniziato già nel 2019, di trasformare in moschea il museo di Santa Sofia. E poco tempo dopo, in agosto, la stessa sorte tocca a San Salvatore in Cora. Ma che sta succedendo? Lo chiedo alla professoressa Fobelli. Allora, perché oggi parliamo di Santa Sofia? Ma perché si tratta di un monumento unico, davvero un'eccezione, un tauma, come lo chiamavano i contemporanei, che già all'atto della costruzione l'avevano inserito in questo catalogo delle Sette Meraviglie di Filone di Costantinopoli. Come dicevi tu, è un sito unesco, è patrimonio dell'umanità e dunque questa vicenda, piuttosto dolorosa, la riporta di grande attualità. E in realtà Erdogan, con questo gesto unilaterale, a mio parere ha cercato, ha inteso di cancellare gli ultimi 84 anni della sua storia, della storia di Santa Sofia, intendo, che nel 1936 era diventata per volontà di Mustafa Kemal Ataturk, padre della moderna Turchia, era diventata museo. Quindi, diciamo, Erdogan ritiene di poter cancellare con un colpo di spugna questi ultimi 84 anni e di occultare addirittura i primi mille anni della sua storia, cioè dalla fondazione alla conquista ad opera di Movimento II, mille anni durante i quali la Basilica era stata appunto la principale chiesa dell'Ecumene Cristiano. Un'operazione, a mio parere, miope, un po', diciamo, come dire, che nel tempo si rivelerà poco scaltra, anche politicamente. Beh, allora forse vale la pena oggi tentare di ricostruire questa lunga storia, la storia della sua creazione, ma anche la storia, i fatti, per cause naturali, per cause antropiche, che hanno segnato questo monumento fino a noi. Proviamoci. Proviamoci, dicevo fra me e me la stessa cosa, Mario. Allora, l'edificio attuale di Santa Sofia fu costruito in realtà dall'imperatore Giustiniano nel 530, in cinque anni, in appena cinque anni. Nel 1932 inizia la costruzione, nel 1937 viene completata. L'imperatore parte con questo proposito, di volere un edificio unico, che non abbia uguali, e per questo fa realizzare una basilica con cupola. Ecco, le due precedenti sante Sofie, perché ce ne furono due, appunto, costruite rispettivamente da Costantino, e dedicata nel 360 dal figlio Costanzo, e da Teodosso II nel 415, in realtà erano delle splendide chiese, ma con la consueta struttura basilicale, probabilmente a cinque navate, con gallerie, atrio e quadriportico, sul genere, cioè delle basiliche che Costantino aveva ideato a Roma, di San Giovanni il Laterano, o per esempio a Gerusalemme, si pensi al martirium nel complesso del Santo Sepolcro. Ecco, per Santa Sofia Giustiniano pensa una tipologia completamente diversa, una basilica con cupola, ma la cupola richiama immediatamente un monumento cardine, iconico del mondo romano, il Pantheon, e idealmente si collega a questo. Dunque le ambizioni sono grandi, e Giustiniano, appunto, nel 532, dà inizio alla costruzione di questa nuova chiesa dedicata alla Divina Sapienza, al Cristo Logos, alla seconda persona della Trinità, affidando il progetto ad Antemio di Tralle e a Isidoro di Mileto. Ma chi erano costoro? Ecco, non erano semplici architetti, ma Antemio era uno studioso di matematica e fisica, Isidoro di Mileto, uno specialista di geometria delle opere di Archimede e di Euclide, inventore di uno speciale compasso per disegnare parabole. Questo è interessante tenerlo a mente, perché Santa Sofia è tutta una superficie curva. Ecco, Procopio di Cesarea, lo storico ufficiale del tempo di Giustiniano, li definisce meccanicoi e meccanopoioi, oggi diremmo esperti di scienza e tecnica della costruzione. Dunque, la domanda da cui siamo partiti, Giustiniano non si rivolge a dei normali architetti, ma è in carica degli ingegneri, che per la loro formazione erano dei veri e propri ricercatori e degli scienziati. Ecco, dunque, Santa Sofia nasce all'insegno di questa unicità e di questo carattere stupefacente, tant'è che i bizantini, sin dall'inizio, lo ritengono il luogo della maestà imperiale e divina. Lì, infatti, si incontravano l'imperatore e il patriarca, le massime autorità rispettivamente religiose e civile dell'impero bizantino. Quindi la considerano il santuario celeste, Santa Sofia, l'immagine del cosmo, il trono della gloria di Dio. Ecco, è interessante che Santa Sofia si identifica nell'immaginario dei contemporanei sicuramente con un edificio preciso, uno spazio reale, ma al tempo stesso è quella struttura, è quell'architettura progettata per evocare l'idea di trascendenza, ciò che va oltre la realtà sensibile, cioè Santa Sofia diventa un'icona di Dio. Ecco, io direi, per evitare anche la noia dei nostri ascoltatori, entriamo idealmente in Santa Sofia, accompagnati dalle parole di Procopio di Cesarea, che conosceva molto bene la Chiesa. Cosa dice Procopio? Ogni volta che qualcuno si rega in quel tempio a pregare, subito comprende che non per umana valentia o competenza, ma per intervento divino, quest'opera è riuscita così perfetta, sicché la mente si eleva a Dio e considera che egli non può essere lontano, ma ama dimorare proprio laddove gli ha scelto. Ecco, in questa parola è condensata in profondità la percezione dei contemporanei, dei fedeli che partecipavano ai viti sacri nella Santa Sofia. È interessante, penso, Mario può essere una spia, il fatto che Procopio definisca in un certo senso, pur non usando il termine specifico, questa Chiesa come una cheropita, cioè come un'opera non realizzata dall'ingegno umano, da mano umana, ma opera di intervento divino. Ecco, ma in che consiste? Consisteva. Perché i contemporanei credevano questo? Cioè che si trattasse di un edificio davvero senza pari? Perché se noi andiamo a vederlo, ancora oggi è un edificio di dimensioni monumentali e il corpo esterno, questa è una pianta storica dello Schneider, ha un perimetro rettangolare quasi quadrato, un rettangolo raccorciato, 71 per 77 metri, con pareti molto sottili, mentre il nucleo portante, questo quadrato centrale, individuato da quattro enormi altissimi pilastri, collegati da arcate gigantesche, è coperto da una cupola di 31 metri di diametro su pennacchi sferici. Andiamo a vedere un pochino come si presenta Santa Sofia. Allora, Santa Sofia cos'è? Rispetto a quel discorso che facevamo prima tra basiliche, è una basilica a tre navate, indubbiamente, ma con uno spazio centrale coperto da una gigantesca cupola, la quale si innalza da terra 56 metri. Ecco, ancora la stupefacente struttura di questo edificio è costituita sui lati nord e sud da arcate riempite, si fa per dire, da pareti finestrate. Ecco, qui ne vediamo la parete nord, praticamente, mentre invece, ecco questa, la parete nord, ha la stessa struttura, rispecchia quella meridionale, mentre invece sui lati est e ovest, le arcate sono prive di pareti sottostanti, sono come sospese nel vuoto e si espandono longitudinalmente in, questa è la parete, scusate, questa è la arcata occidentale, la controfacciata, diciamo così, queste due arcate prive di pareti sottostanti sono come sospese nel vuoto e si espandono in due semicupole sorrette da due sedre per parte a loro volta. Allora, come dire, facciamo il punto un po' della situazione, diciamo che Antemia e Isidorio, la formazione scientifica di Antemia e Isidorio, le soluzioni tecniche innovative e l'impiego di materiali sperimentali, tutto è messo a servizio di una nuova visione dello spazio, che supera la tradizionale concezione di parete massa, ecco, ripeto, questa è la parete settentrionale, ma in realtà di parete non c'è nulla, praticamente, a livello dei pian terreno ci sono colonnati, poi ci sono gallerie, e poi, appunto, quella parete finestrata. Quindi supera la concezione di parete in massa e porta alle estreme conseguenze il principio dell'organismo centrifugo. Ecco, questa che mostro è un'immagine non artefatta, non, diciamo, come dire, taroccata della Santa Sofia, ma ottenuta semplicemente con un grand'angolo, da una posizione quasi relativa al corridoio, quasi all'altezza del corridoio della cupola, ecco, che dimostra come l'occhio umano non riesce a percepire nella sua interezza questa, diciamo, enorme dimensione e questa tendenza centrifuga allo spazio, ma c'è bisogno, appunto, di una macchina fotografica. I due scienziati, quindi, creano uno spazio circoscuribile, senz'altro, ma al tempo stesso indefinito, uno spazio dinamico, ecco, mi piace di dire questo, Santa Sofia è uno spazio inteso come luce, ma è anche uno spazio in movimento. Dicevo, uno spazio dinamico, la cui percezione ha bisogno di un processo multisensoriale, perché il solo organo della vista non è sufficiente, ossia stare nello spazio di Santa Sofia, soprattutto al tempo, diciamo, di Giustiniano, per i secoli in cui fu Basilica Cristiana, ma ancora oggi, è come vivere una full immersion, in cui sono coinvolti tutti gli organi di senso. Ecco, questo può sembrare un discorso sibillino, ma i bizantini lo conoscevano bene e lo sperimentavano nel rito liturgico. Perché? Ma perché per i bizantini l'estetica non riguardava solo la percezione sensibile, ma era una forma di conoscenza, era un agnosi. E dunque per l'Opseudo di Dionigi, nella liturgia, la cui azione si svolgeva nello spazio dell'edificio sacro, nella liturgia le opere d'arte assolvevano una funzione importantissima, molto più elevata di quella attribuita a loro da Platone, arte, copia della copia, e da Plotino, cioè una funzione di mediazione simbolica simile a quella dei sacramenti. Allora, questo spazio in movimento, come è possibile dire una cosa del genere? Ma sempre lasciamoci guidare dai contemporanei. Prima abbiamo ascoltato, abbiamo sentito, idealmente, le parole di Procopio di Cesarea, storico di Giustiniano. Adesso ascoltiamo brevemente qualche verso di Paolo Silenziario, poeta intellettuale dell'imperatore, che ci guida alla comprensione di questo spazio, che dicevo, non è statico e inerte, come normalmente avviene nell'architettura, ma è invece dinamico e animato. Allora, cosa dice Silenziario? Dirigendo lo sguardo verso gli archi orientali contemplerai una meraviglia in perpetuo movimento. Ecco, mi sembra di nuovo questa foto che accompagna, anche questa non è una foto artefatta, ecco, nessuna delle foto che mostreremo è frutto, diciamo, di operazioni a tavolino, ma sono esattamente, questa è una foto fatta con banco ottico, dal basso e riprende, che cosa? La compresenza e dunque l'idea di movimento della cupola, della semicupola, della conca absidale. Ancora, sempre a proposito della cupola, Paolo Silenziario rileva questo, sollevandosi sopra nello spazio infinito, questo spazio, dicevamo prima, circoscrivibile, ma infinito. Un elmo si avvolge da ogni parte come una sfera, si avvolge, c'è un movimento rotatorio che è sufficiente, che per percepire il quale è sufficiente mettersi con la testa di sotto in su e guardare in alto in Santa Sofia. Dicevo, un elmo si avvolge da ogni parte come una sfera e come un cielo luminoso protegge la copertura della dimora. Naturalmente l'elmo è la cupola di Santa Sofia. La Santa Sofia spazio come luce. Ecco, allora, l'altro aspetto che direi, per sintesi, ma ce ne sono in realtà parecchi altri, caratterizzante Santa Sofia, oltre il movimento, è la luce. E la luce sembra autogenerata nella chiesa. Di nuovo è Procopio che ci aiuta in questo senso. Sebbene la chiesa sia traboccante di luce naturale, di raggi del sole, ecco, sembra che questa luminosità sia intrinseca, dice Procopio. Tale sovrabbondanza di luce vi è riversata. Perché questa sovrabbondanza di luce? E soprattutto dove la cogliamo? Ma io per schematizzare un po' questo discorso che ci porterebbe, se no, molto lontano, parlerei di tre tipi di luce. Luce riflessa, in particolare sui marmi e sui mosaici, luce naturale e la cucola, luce artificiale o sistema di illuminazione. Ecco, questa luce naturale, vediamo un po' di coglierla. Questa entra dalle numerosissime finestre che sono aperte a varie altezze, a vari livelli, nella struttura di Santa Sofia ed entra sotto forma di fasci luminosi che si multiplicano e si intersegano in un gioco mutevole che deriva dal variare della luce a seconda delle diverse ore del giorno. Ma questa luce si riflette sui mosaici a fondo oro, che sono prevalenti, che costituiscono la decorazione originaria, quella giustinianea appunto, e ancora si riflette sulle strutture di marmo lavorate a traforo, per esempio, diciamo, le grandi cornici di architravi, che qui non mostro, e poi si riflette sulle lastre di marmo che ad una certa altezza, all'incirca fino a 12 metri, forse anche più, rivestono l'edificio come una pelle luminosa. Ecco, questo è un pilastro, uno dei quattro enormi pilastroni, oppure coprono il pavimento come un tappeto scintillante. Bene, tutti questi elementi, diciamo così, decorativi, come i materiali preziosi e i sistemi decorativi, marmi e mosaici, sono dunque subordinati, ideati, pensati, assemblati, per rispondere ad un principio assoluto che presiede all'organizzazione dello spazio. Questo principio assoluto è la luce. Secondo aspetto, luce naturale e cupola. Ecco, il luogo di massima concentrazione luminosa, potremmo dire la cupola, illuminata da una corona di finestre alla sua base, inserita in una porzione di spazio sferico. Questo è interessante. Non in una parete verticale, come quando è presente il tamburo. Per esempio, nell'architettura, allora qui vediamo appunto che in Santa Sofia, questo all'esterno della cupola, non c'è il tamburo. E dunque le finestre necessariamente sono aperte in questa, diciamo, base di una porzione sferica di spazio. Invece, laddove c'è il tamburo, per esempio nell'architettura cinque o seicentesca, prendiamo questo esempio straordinario della cupola di San Pietro, le finestre corrono appunto sul tamburo, cioè sull'elemento di mediazione fra la cupola e il corpo dell'edificio. Ecco, la differenza con Santa Sofia qual è? Ma è sostanziale, perché queste finestre producono un duplice risultato, un alleggerimento della massa muraria in una zona di forte rilevanza statica, dunque un indebolimento della struttura, diciamo, muraria, e un effetto luminoso intensificato. Effetto luminoso che da un punto di vista ottico causa la dissoluzione della struttura che incornicia le finestre e della porzione di cupola immediatamente sovrastante. Ecco, una foto di questo genere dà un po' un'idea, ma mi sembra di averne messe altre, ancora più evidenti. Se poi consideriamo, non l'ho detto prima, ma per brevità, che in realtà la prima cupola della Basilica di Giustinianea cade parzialmente nel 558 in seguito a un terremoto, ma in realtà gli studiosi sono convinti che sarebbe caduta comunque, perché nessun tecnico del tempo era in grado di calcolare esattamente le spinte esercitate da una cupola in miniatura di quelle dimensioni, 32 metri, ricordo, e 56 da terra. Dicevo, se si considera che la prima cupola, e qui le ho schematizzate, fatte schematizzare in questi disegni, diciamo, era più bassa di circa 20 pili bizantini, cioè di 6 metri e 34 rispetto alla seconda, ecco, si capisce che nella prima cupola questo gioco, diciamo, di smaterializzazione della base della cupola era ancora più accentuato, perché la superficie era decisamente minore rispetto alla seconda, che è qui sulla destra. E allora si capisce perché Procopio, l'unico fra i contemporanei e descriverla, per dare l'idea proprio di smaterializzazione, di leggerezza che doveva suscitare nello spettatore fedele, si esprime in questo modo. Andiamola ad ascoltare un'altra volta. Su questo elemento circolare insiste la cupola immensa dalla forma sferica. Non sembra che poggi su solida base costrutta, ma che ricopre il sito pendendo giù dal cielo con la catena dorata. Terzo punto, l'illuminazione artificiale o apparato illuminotecnico. Ma Santa Sofia, oltre alla messa in scena della luce naturale, di cui, diciamo, ho cercato di mostrare alcuni aspetti, aveva anche un complesso, articolato e incredibile sistema di illuminazione artificiale, di cui nessun dispositivo, nessuna lampada, lampadario, policandello, si è conservato, ma di cui Paolo Silenziario ci ha lasciato una descrizione straordinariamente vivida. L'aspetto interessante e che non può essere sottaciuto è che in realtà si tratta di il linguaggio usato da Silenziario è complesso, è dato da immagini e metafore che a lungo sono state trascurate dagli studiosi perché ritenute esclusivamente frutto dell'esuberante fantasia poetica dell'autore, ossia frutto di questa poesia di imitazione omerica attraverso nonno. In realtà con un po' di pazienza e con un'accurata analisi testuale grazie al confronto con lampade coeve trovate in tesori liturgici bizantini scoperti nel secolo scorso negli anni 60 normalmente o anche un pochino più tardi in Siria e Turchia ecco mi è stato possibile ritenere con quasi diciamo certezza che Paolo Silenziario non fa soltanto bella non scrive soltanto bei versi ma dice esattamente le cose come dovevano essere dunque proporre alcune restituzioni grafiche. Tralascio per brevità tutto il brano straordinario di più di 100 versi che Silenziario dedica a questo sistema illuminotecnico e comunque secondo la sua descrizione e la sua eclorasis la parte più spettacolare il focus visivo di questo apparato doveva essere la corona di luci concentriche del Naos che erano fissate alla cupola per mezzo di catene di bronzo mobili e che si arrestavano a pochi metri da terra ecco questa corona questo lampadario a corona era fatto di policandela come quelli che vediamo qui di forma circolare o a croce o rettangolare o poligonale ma diciamo questi policandela naturalmente non sono posti come li vedete ma sono messi in realtà in orizzontale con delle catene che li collegano poi alle catene principali allora diciamo proprio lavorando su questa descrizione di Silenziario ho proposto alcune restituzioni grafiche di questo lampadario a corona secondo le vedute dall'alto o ancora dal basso che scaturiscono appunto dal confronto fra il testo di Silenziario e le lampade del tesoro di Sion in particolare si tratta di un tesoro trovato negli anni 60 in Licia nella Turchia sud-occidentale e che diciamo Silenziario questa invece era la vista che doveva avere uno dei tanti diciamo sacrestani uno dei tanti addetti alle pulizie secondo studi ben accreditati si parla di circa un migliaio di queste persone destinate alla manutenzione della grande chiesa nell'epoca diciamo nel secolo nei secoli pregono clasti ecco dicevo il ricordo e la testimonianza la prova in un certo senso di questo lampadario ottomano di questo lampadario chiedo scusa corona è attestato proprio dalla litografia di Gaspare Fossati Gaspare Fossati che realizzò sentiremo poi vero Mario un restauro estremamente importante alla metà dell'ottocento documentato da questa litografia che si può considerare dicevo questo questo lampadario ottomano come l'ultima copia del lampadario a corona Basilica Giustinanea chiudo su questo discorso della luce ricordando che infatti la gran parte se non la totalità delle moschee oggi presentano lampadari di questo genere che sono proprio una derivazione bene forse ho impiegato un po' di tempo ma questo aspetti questo aspetto della luce nelle tre valenze luce riflessa luce naturale luce artificiale mi sembrava interessante tu che ne pensi? ma è un aspetto sicuramente determinante e mi fa tornare in mente tu hai citato testimoni appunto storici importantissimi c'è un altro testimone successivo che viene colpito proprio dalla diciamo dalla da questa luce riflessa sulle tessere musive e questo testimone è un personaggio straordinario è teofilo cioè Ruggero di Erma Schausen un monaco benedettino che probabilmente ne siamo abbastanza convinti si reca a Costantinopoli al seguito dell'abate Vibaldo abate di Stavelot che sarà per un breve periodo anche abate di Monte Cassino e che viene inviato in delegazione appunto a Costantinopoli teofilo lo accompagna e probabilmente da ciò che racconta nella sua schedula si reca clandestinamente all'interno di Santa Sofia in un momento di cantiere e ci ha lasciato una descrizione veramente interessante della sua delle sue suggestioni delle sue sensazioni e teofilo nel prologo al libro secondo tra l'altro lui in questo libro si occupa proprio di vetri di tessere dei mosaici e quindi di riflessione della capacità appunto di riflessione del vetro e teofilo dice pertanto mi avvicinai alla porta d'ingresso di Santa Sofia e vidi il santuario riempito di tutti i colori e in tal modo mi fu chiara la funzione e la natura di ogni pigmento lui la vede dal punto di vista dello storico e del tecnologo delle arti entrai senza esser visto e riempì immediatamente il mio cuore con tutte queste suggestioni esaminai e qui lui sottende i vetri colorati lui esamina i mosaici esaminai li esaminai uno ad uno con attenzione i pigmenti e le tessere analizzandoli tutti con l'occhio e con la mano per trasmetterli a voi qui appunto nel suo trattato con chiarezza per il vostro studio e poi naturalmente e continua mi sono preoccupato di indagare questa tecnica per trasmetterla così come io stesso solo appresa guardando e ascoltando quindi Santa Sofia lo emoziona moltissimo e appunto lui ci ha lasciato questa straordinaria testimonianza in questa fonte una delle più belle fonti tecniche medievali ma mi riaggancio ad un altro aspetto che tu hai trattato l'aspetto della cupola la cupola è fondamentale una cupola fragile però una struttura appunto delicata una prova d'ingegno ora questa cupola queste cupole le cupole hanno avuto appunto i segni hanno portato i segni del tempo e sicuramente anche i segni della storia sismica della città di Costantinopoli una storia veramente con molti eventi sismici e la cupola ha avuto appunto il bisogno di interventi e ci sono appunto diciamo tracce di questa di crolli di ricostruzioni parziali di rinforzi ma anche poi in occasione degli interventi ottocenteschi tu hai citato i fossati poi ne parleremo anche in quell'occasione a metà dell'ottocento fu necessario anche se non fu l'aspetto principale dell'intervento dei fossati intervenire su alcuni elementi strutturali e quindi la cupola in molti momenti della storia della chiesa ha mostrato segni di affaticamento e la necessità appunto di rafforzamenti l'aggiunta di parti un architetto importantissimo che interviene su Santa Sofia è il grande architetto Sinan per esempio e ci sono appunto anche altre diciamo altre tracce importanti sicuramente la storia strutturale la storia sismica di Santa Sofia ha avuto un'adeguata ricostruzione nella seconda metà del novecento alla diciamo a completamento degli interventi dell'istituto bizantino d'America di cui parleremo che ha poi come dire richiamato su Santa Sofia che poi diventa e lo diremo più avanti diventa parte del grande sito unesco della parte storica della città di Istanbul però ha appunto richiamato l'interesse di scienziati e specialisti degli aspetti strutturali ma adesso io farei un passo un passo come dire laterale verso un altro aspetto nella lunga storia di Santa Sofia sarà interessante anche capire quali sono gli atteggiamenti dei principali personaggi della storia come dire della seconda vita della città di Costantinopoli e della storia di Santa Sofia ecco Maometto II che conquista la città del 1453 qual è il suo atteggiamento nei confronti di questo capolavoro che si trova a dover gestire ma molti alcuni secoli dopo un altro importante sultano Abdul Mejid anche lui sarà determinante il suo atteggiamento sarà determinante nella storia moderna della tutela di questa di questa basilica ecco come come vedi come interpreti questi due personaggi Maometto II e Abdul Mejid Allora grazie per diciamo questa proposta di conversazione di dove di solco su cui continuare la nostra conversazione ma sono due personaggi estremamente affascinanti diversi ovviamente ma in qualche modo accomunati da un atteggiamento rispettoso di grande diciamo così comprensione della valenza artistica monumentale straordinaria di Santa Sofia che dire proviamoci con qualche battuta allora Mehmed II Maometto II il conquistatore è un personaggio straordinario un misto dotato di straordinaria prespicacia un misto di coraggio e di astuzia di raffinatezza delicata e di brutale violenza ecco è un personaggio a cui si attribuiscono una sorta di tolleranza religiosa si fa in qualche modo iniziare la dottrina cristiana dal patriarca Gennadios lascia in funzione il patriarcato di Costantinopoli intrattiene rapporti con artisti con eruditi greci artisti umanisti italiani il famoso ritratto che qui vi mostro è quello straordinario dipinto da Gentile Bellini ecco amava i classici era stato educato a lettere classiche al greco e latino pare si facesse leggere quotidianamente stralci dei poemi di Omero o passi della vita di Alessandro Magno di Annibale e di Cesare dunque un personaggio indubbiamente fuori del comune e Turz Kumbed lo storico turco testimone oculare della caduta di Costantinopoli ricorda diciamo così ci dice in due battute l'incontro di Maometto II con Santa Sofia e i suoi in qualche modo sentimenti ecco avanzava a cavallo fra i palazzi in rovina della città e di improvviso vide un edificio così alto che per salire sulla cima è necessario non soffrire di vertigine dice Turzun Bed con una cupola che assomigliava alla volta del cielo e allora fu preso dal desiderio di entrare in Aia Sofia e dice lo storico se desideri contemplare il paradiso visita l'Aia Sofia che del paradiso è il più alto cerchio come dire poste queste bremesse forse riusciamo a capire un po' anche che i cambiamenti all'indomani della conquista i cambiamenti apportati alla Santa Sofia furono contenuti e non eccessivamente invasivi sebbene incisero in modo radicale sulla funzione e sul significato simbolico e reale dell'edificio ma Maometto II lungi dal distruggerla come invece aveva fatto ricordiamoci con la Basilica di Santi Apostoli che in origine era il mausoleo di Costantino il fondatore della città ecco a differenza di questo atteggiamento diciamo piuttosto violento Maometto II decide di trasformare la Basilica Cristiana di Santa Sofia nella principale moschea del regno e allora cosa fa? poche cose ma appunto significative toglie la croce all'esterno della cupola la croce di bronzo che svettava appunto all'esterno che viene sostituita dalla mezzaluna turca poi dice la tradizione che fa costruire un primo minareto la cui costruzione in realtà si protrae dopo la morte di Maometto che viene posizionato questo è interessante all'angolo sud-ovest cioè sul pendio dell'antica Acropoli in una posizione spettacolare perché le navi che solcavano il mare di Marmara dovevano vedere quel segno e attribuirlo alla potenza dell'Islam ancora all'interno della Basilica ovviamente elimina gli arredi liturgici cristiani quelli che connotavano appunto in senso cristiano la Basilica arredi e mi riferisco dunque alla recensione presbiteriale al ciborio al lambone al sintrono eccetera già gravemente danneggiati durante il sacco dei latini del 1204 e poi come diciamo aggiunte fece costruire il mirab o nicchia di preghiera rivolta verso la Mecca che ancora ovviamente si trova in Santa Sofia e il minbar quella sorta di pulpito dall'alto del quale vengono letti i brani del Corano inoltre dotò la moschea dei suoi vessilli di vittoria e di un suo tappeto di preghiera reliquie che Edmondo De Amicis nel viaggio a Costantinopoli effettuato nel 1875 ricorda ancora De Amicis va a Costantinopoli per scrivere un reportaggio di viaggio che gli era stato commissionato ecco ma la cosa più interessante mi sembra quella relativa ai mosaici che cosa fa dei mosaici Maometto II bene su questo purtroppo e sui secoli in realtà fino all'Ottocento non abbiamo documentazione d'archivio e abbiamo testimonianze di viaggiatori di persone che entrano in Santa Sofia contraddittorie ma diciamo si è ipotizzato fondamentalmente questo che dal XV secolo cioè dalla conquista al 1600 i mosaici figurativi nelle parti alte dunque nella cupola dove allora c'era un Cristo Pantocrator e del Bema la Teotocos col bambino e gli arcangeli Gabriele e Michele erano talvolta visibili del tutto in parte talvolta nascosti fino al loro definitivo occultamento che invece avvenne alla metà del Settecento ecco come dire quindi possiamo ricavare che nei primi tempi e sicuramente al tempo di Maometto all'indomani della conquista i mosaici posti in basso furono sottratti alla vista perché potevano disturbare tra virgolette la congregazione musulmana in piadiera ma quelli in alto in genere sopravvissero quasi intatti questo è indicativo perché il moderno sultano Recep Erdogan in realtà opera con minore diciamo sottigliezza con minore diciamo cura con minore delicatezza e procede a gamba tesa diremmo noi oggi voglio ricordare una cosa che può essere interessante per i nostri ascoltatori Mario che naturalmente una volta diventata moschea la la Santa Sofia non era più accessibile ai cristiani e però è significativa la testimonianza di un avventuriero viaggiatore un francese di nome Grelo che nel 1680 travestito sitaturco a rischio della propria incomunità eluse il divieto di accesso imposto ai cristiani e cosa fece corruppe alcuni custodi e riuscì così a condurre una specie di survey all'interno e all'esterno della moschea e negli annessi principali e sulla base di queste osservazioni autoptiche scrisse la sua relazione relation nouvelle d'un voyage de Costantinople che corretò di alcuni disegni ecco diciamo la immaginazione della fantasia ha aiutato questo personaggio unissimo aggancio appunto sull'atteggiamento che assumerà Abdul Mejid in modo tale che io poi possa come dire affrontare il problema della venuta a Costantinopoli di Gaspare Giuseppe Fossati diciamo ancora ti ringrazio per questa possibilità questi due architetti ticinesi Gaspare e Giuseppe ma soprattutto Gaspare sono personaggi diciamo straordinari come straordinario d'altra parte è il sultano del tempo questa volta di nome Abdul Mejid primo giovane meno di 30 anni intuisce aperto abile deciso a mettere l'impero ottomano in stretta relazione con i principali stati europei evitando l'isolazionismo che negli ultimi tempi l'aveva caratterizzato e cosa decide? Decide di far riparare l'edificio e così nel 1843 emana un editto imperiale e approfittando del pellegrinaggio alla Mecca si sbarazza tra virgolette degli imman più integralisti che si erano duramente opposti a questo intervento di conservazione e di restauro sulla Santa Sofia e dunque l'intervento parte dura due anni dal 1947 al 49 anni in cui la moschea sarà chiusa al pubblico sarà chiusa ai fedeli questo è interessante tenerlo a mente mai una sospensione così lunga e durante i quali anni invece stranamente la moschea è aperta al pubblico di chi? al pubblico dei visitatori dei curiosi degli studiosi ecco fra i quali per esempio possiamo ricordare il pittore Horace Vernet il pianista Franz Liszt il cultore di arte medievale Paul Durand addirittura il patriarca ortodosso del tempo Costantino I potesse salire sui ponteggi e vedere a distanza ravvicinata questi mosaici che venivano scoperti poi dirai tu appunto qualcosa e tra le altre cose tra gli altri visitatori illustri ci fu anche l'architetto tedesco Wilhelm Salzemberg che per impulso di Federico I di Prussia nel 1854 pubblica il primo studio scientifico sulla Santa Sofia allora dicevo che cosa è interessante è interessante che nell'arco di poco tempo già nell'aprile cioè già nell'848 l'interno della moschera è diventato una selva di ponteggi che coprivano l'intero spazio dal pavimento al tetto e per fossati lavorarono immaginiamo il cantiere circa 800 uomini ti lascio la parola ecco ma questo intervento dei fossati va collocato proprio nel clima di internazionalizzazione che il sultano il giovane sultano sicuramente in continuità con suo padre perché questo processo di riforma e di modernizzazione appunto era stato iniziato da appunto da suo padre si va a collocare proprio in questo in questo ambito quindi c'è un parallelismo importante da fare tra quello che accadeva a Istanbul a metà dell'ottocento e quello che stava accadendo a San Pietroburgo e questi nessi in realtà poi toccano anche aspetti specifici e vanno anche a riguardare la biografia di Gaspare Fossati che tu hai citato quindi venivano chiamati artisti musicisti intellettuali operai anche semplici operai da tutto il mondo occidentale e molti italiani hai citato per esempio hai citato Edmondo De Amicis la colonia italiana era numerosissima e i Fossati ne faranno parte per 22 anni saranno lì per 22 anni e proprio De Amicis ce la descrive dice la colonia italiana è una delle più numerose di Costantinopoli ma non delle più prospere ha pochi ricchi molti miserabili specialmente operai dell'Italia meridionale che non trovano lavoro ed è la colonia più meschinamente rappresentata perché tutti i suoi giornali non fanno che nascere e morire ecco arrivano anche architetti dopo i Fossati ricordiamoci che a fine proprio alla fine del secolo un altro architetto italiano molto più noto dei Fossati Raimondo D'Aronco si trasferirà per un periodo di tempo lungo appunto in quella città e addirittura diventerà ispettore generale di restauri di tutte le moschee quindi diciamo che non sappiamo bene poi se si occupa anche lui di Santa Sofia ma questa carica lui ce l'ha ora i due Fossati sono non sono italiani sono ticinesi però di cultura e di formazione italiana ma si formano studiano in Italia perché sono allievi di Brera Gaspare avrà anche una fase romana però è importante la fase appunto di San Pietroburgo lui si trasferisce in quella città e sposa Giuseppina Rusca figlia di un grande architetto che muore dopo poco e lascia al giovane Fossati l'eredità come dire di posizione tant'è vero che lo zar Nicola I lo invia a quel punto in Turchia e poi sarà raggiunto due anni dopo dal fratello Giuseppe ora qual era il compito di Fossati inviato appunto da Nicola I non era certo quello di restaurare Santa Sofia lui doveva progettare e occuparsi della costruzione della nuova ambasciata russa in quella città a quel punto però lui era molto come dire aveva un'ottima capacità di autopresentazione e avrà tantissime commesse di progetterà tantissimi edifici pubblici importanti a quel punto si aggancia come dire la sua fama cresce e quindi ci sarà l'incarico di occuparsi di Santa Sofia però né Gaspare né Giuseppe questo dobbiamo dirlo avevano una particolare esperienza del restauro dei monumenti cioè non era quella la loro vocazione il restauro dei Fossati e qui apro una parentesi è stato come dire capito in profondità probabilmente una ottantina d'anni dopo proprio dagli americani che arriveranno negli anni trenta del novecento a Istanbul e attraverso l'istituto bizantino si occuperanno in un modo sistematico moderno per diciotto anni dell'intervento generale appunto di conservazione dei mosaici quindi saranno gli americani a scavare a fondo nel restauro dei Fossati però io sono convinto che Gaspare si era molto ben documentato perché si era informato naturalmente per diciamo ridurre il margine di errore di quello che stava accadendo in Italia nel campo del restauro dei dipinti murali e infatti utilizza per esempio una quantità gigantesca di grappe metalliche sono esattamente le stesse che usava Guglielmo Botti che era una star del restauro dei dipinti murali in Italia che lavorava sui dipinti di Giotto tra Assisi e Padova queste grappe metalliche sono identiche a quelle che erano state usate sulla loggia di Psiche 150 anni prima quindi diciamo Gaspare veramente come dire studia il problema e naturalmente farà delle scelte appunto metodologiche sull'intervento ora era molto mal ridotta la chiesa aveva problemi come dire di mancanza di manutenzione di danni accumulatisi nel tempo però c'era anche il problema come dire dell'apparato decorativo un apparato decorativo che a quel punto come dire dopo essersi occupato di consolidamenti strutturali naturalmente si rendono conto che c'erano anche distacchi degli strati come dire portanti delle decorazioni delle pareti e a quel punto diciamo accanto all'intervento di rinforzo degli stacchi si come dire inizierà l'operazione di disvelamento e su questa operazione sarà un'operazione molto interessante perché a questa seguirà un nuovo trattamento come dire di ricopertura ma con una modalità differenziata quindi i mosaici vengono finalmente scoperti tra virgolette vengono liberati dalle sovramissioni precedenti naturalmente questa scoperta colpisce molto però poi a questo disvelamento segue una nuova copertura poi c'erano anche apparati decorativi come dire meno pericolosi dal punto di vista dogmatico e quindi diciamo il trattamento viene differenziato coperture totali e trattamenti più leggeri in altre situazioni allora interessantissimo questo discorso dei fossati ecco io direi per il nostro pubblico facciamo vedere alcune cose che concretamente su cui concretamente agiscono i fossati in particolare ci sono due relazioni che sono conservate all'archivio di stato di Bellinzona che trattano appunto dei restati due relazioni non firmate ma quasi con certezza attribuite a Gaspare l'una rivolta a un'autorità turca e l'altra invece a un altro personaggio della corte russa bene in queste relazioni si dice che fossati fa praticamente il suo impulso di Abdulmeshil realizzare dei nuovi scudi con versetti coranici perché in origine prima dei fossati ce ne erano di forma rettangolare e allora nella documentazione ricchissima di disegni di schizzi di disegni parzialmente colorati o litografie che sono conservate a Bellinzona e in piccola parte a Morcote ecco c'è questa cosa molto carina cioè vediamo questo disegno acquarellato di Gaspare Fossati in cui gli otto scudi con versetti coranici sono disegnati prima di affidare l'incarico al calligrafo di turno e addirittura c'è come vedi una pianta con schematizzata la posizione in cui andranno posizionati gli scudi quindi i fossati erano molto diciamo precisi ancora tu citavi prima l'intervento questa è una foto di Robertson del 1855 dove appunto si evidenzia questa ridipintura strisce orizzontali gialle e rosse forse oltre che un ri in qualche modo una goticizzazione con le rosette che menzionavi è anche un richiamo al sistema bizantino a fasce quello praticamente a marmo e a mattoni e quindi in qualche modo è un po' una diciamo rafforzare questa identità bizantina del monumento ma ancora diciamo in queste relazioni che citavo prima si punta diciamo su altri aspetti che sono oggetto del restauro dei fossati in particolare i rivestimenti marmorei ecco questo mi interessa particolarmente perché prima parlavamo della luce riflessa sui marmi che dobbiamo immaginare estremamente lucidi e puliti cosa che invece purtroppo oggi è l'aspetto a mio parere più di cattiva conservazione del monumento perché i marmi sono sordi bene in un documento si annota che Gaspari intende far pulire e lucidare i marmi a testimonianza di questo ci sono dei grandi disegni di grandi dimensioni che si conservano presso sempre l'archivio di Bellinzona ma la cosa più affascinante è quella che tu dicevi cioè la riscoperta dei mosaici bene alla data in cui vengono ingaggiati i due fratelli i due architetti svizzeri sicuramente nessun mosaico doveva essere visibile quindi in qualche modo diciamo è una straordinaria sorpresa quella che prende questo architetto diciamo svizzero quando piano piano lavorando alla conservazione alla manutenzione delle strutture perché tu dicevi giustamente era in pessimo stato di conservazione la santa sofia c'erano finestre rotte nidi di uccelli di tutto insomma bene quindi una meraviglia uno stupore di fronte alla riscoperta di queste straordinarie testimonianze stupore che poi coinvolge anche il sultano che in una delle sue numerose visite al cantiere diciamo così un giorno con grande meraviglia dice affossati ma dice architetto questo è straordinario affossati che gli mostrava un mosaico probabilmente quello della vergine col balmino probabilmente ma non ne siamo certi e il sultano dice è meraviglioso ma voi lei sta spendendo cifre ingenti del mio diciamo patrimonio per fare queste cose non è il caso cioè essendo caduto nell'equivoco che quei mosaici non erano originari bensì fatti da fossati e quando fossati invece spiega che appartenevano alla basilica cristiana resta ammirato e in un primo momento decide di lasciare a vista ma poi consigliato dal diciamo dal consiglio dal capo di gabinetto del del consiglio politico del del regno diciamo decide di nasconderli proprio per salvaguardarli allora dicevo straordinarie queste scoperte noi in realtà non abbiamo un diario esatto diciamo dei lavori di fossati e quindi della scoperta dei mosaici ma quasi certamente lui comincia dal lato comincia dall'alto innanzitutto come è normale quindi procede dall'alto verso il basso e da est verso ovest e la prima cosa che si trova e questo a sinistra è un bellissimo disegno appunto acquerellato si trova questa situazione praticamente e quando poi procede con l'eliminazione degli intonaci degli strati di cialbatura appare appunto la vergine col bambino nell'abside e a testimonianza di questa scoperta ci sono tantissimi schizzi tantissimi disegni ecco qui ve ne mostro uno dove vedete c'è grande diciamo attenzione grande accortezza grande rispetto diciamo dell'opera grande precisione e poi diciamo successivamente la scoperta dell'angelo Gabriele l'unico superstite sulla volta del Bemma ma al tempo dei fossati c'era anche il corrispettivo il pandan con Michele e sulla sinistra dunque il disegno acquerellato dei fossati poi ancora procede rivolgendosi alle pareti nord e sud dove scopre appunto un numero molto più alto dei due oggi superstiti di profeti e padri della chiesa questa è appunto la situazione attuale poi si sposta al piano superiore delle gallerie dove trova la deesis della quale è interessantissimo diciamo così lascia questa sorta di disegno accorellato e vede in realtà un pezzo diciamo più in basso di una struttura architettonica che lui attribuisce al trono di Cristo una struttura con pietre preziose e gemme incastonate per cui l'ipotesi di fossati è che la deesis che oggi noi vediamo in questo modo cioè a mezzo busto grosso modo e quindi non sappiamo come proseguisse in realtà prevedeva la posizione di Cristo seduto in trono per via di questo gigantesco evangeliario che altrimenti non sarebbe stato possibile diciamo tenere in qualche modo e questo è sintomatico io l'ho rimessa qui perché questo è un disegnino che ancora oggi almeno fino a qualche anno fa a due anni fa l'ultima volta in cui sono andata a Santa Sofia è accluso alla base è apposto proprio è esposto alla base della deesis e che riproduce esattamente l'acquerello dei fossati ecco poi ancora prosegue e dalla galleria poi c'è la scoperta dei pannelli cosiddetti imperiali e poi si ritorna in basso nell'artesce dove parallelamente proseguivano ricordo che si parla di 800 uomini al suo servizio durante questi due anni di restauro la cosiddetta il chiedo scusa prima va al mosaico della porta imperiale che qui non mostro e poi appunto a quello sulla lunetta del vestibolo sud ovest di nuovo attestato la cosa interessante se posso aggiungere e poi ti riderei di nuovo la parola perché tu diciamo ci ci spieghi un po' come prosegue questo aspetto dei restauri con l'istituto bizantino d'america dicevo la cosa interessante è che dalla documentazione di una lettera di Muraviev un viaggiatore russo lettera conservata nell'archivio di Morcote ecco questo personaggio che aveva legami con la corte russa elogia in questa lettera grandemente i fossati soprattutto per l'opera straordinaria che aveva fatto Gaspare che aveva riportato alla luce queste preziose testimonianze di opere d'arte cristiane e perché in qualche modo le aveva salvaguardate ma l'attività il lavoro di Gaspare non era stato facile perché dice Muraviev c'erano degli imani integralisti che lo seguivano passo passo e dunque lui spesso di nascosto nelle ore più tarde saliva sui ponteggi e faceva questi disegni allora qualche volta la fretta gli ha fatto errare gli ha fatto sbagliare e vi mostro perché mi sembra molto simpatica che cosa questo disegno acquerellato della teotocos in trono col bambino che questa volta però non è corretto filologicamente perché nel disegno che abbiamo visto prima l'immagine del bambino è appunto quella del bimbo seduto nelle braccia della madre sulle ginocchia della madre e questo invece è a figura intera ma come si dice aliquando dormi da tomero cioè anche i più bravi sbagliano vorrei proprio agganciarmi a questi errori questi errori di questi errori se ne accorgeranno gli americani ma proprio thomas whitmore che adesso dobbiamo come dire incontriamo nella nostra storia che sarà il personaggio fondamentale appunto per quanto riguarda i restauri ottocenteschi lui riconosce ai fossati il merito della salvaguardia dei mosaici cioè lui appunto ce lo dice chiaramente si sono salvati gli interventi dei fossati hanno contribuito nettamente alla loro salvaguardia nonostante errori interpretativi ma anche errori metodologici sull'intervento ma gli americani di Whitmore faranno molto ricorso ai dati dei fossati nel 1937 si faranno diciamo arrivare da Bellinzona speriamo in fotografia e non gli originali taccuini disegni acquerelli e quant'altro ecco però in tutta questa storia è centrale questo personaggio che noi vediamo qui rappresentato elegantemente vestito proprio con Santa Sofia allo sfondo Thomas Whitmore chi era costui Thomas Whitmore nacque nel 1871 in Massachusetts in Stati Uniti studia letteratura inglese però sviluppa da subito un grande interesse per le antichità e diventerà un archeologo dilettante è un personaggio molto complesso avrà una fase come dire di itinerante in Europa lui arriva a Parigi studia architettura alla Sorbona dopodiché arrivano gli anni della prima guerra mondiale e lì lui avrà una fase come dire di impegno nel lavoro umanitario aderisce alla Croce Rossa si occupa appunto di delle criticità legate proprio ai vari fronti bellici di quegli anni e comincia a peregrinare la sua meta era San Pietroburgo però per arrivare a San Pietroburgo lui attraversa la Turchia e la Turchia diventerà una specie di base per spostamenti dell'Europa dell'Est precedentemente era stato anche in Egitto aveva partecipato a importanti campagne di scavo nordamericane in Egitto ecco quindi lui in Turchia ci sta parecchio ma ci sta nel momento come dire cruciale della storia della laicizzazione dello Stato turco appunto grazie a Kemal Ataturk ora quegli anni gli anni della trasformazione sono raccontati in un libro secondo me straordinario e questa occasione appunto che stiamo vivendo oggi assieme appunto mi ha ricordato questa lettura giovanile il volume il titolo del volume è Turchia vecchia e nuova e l'autore Luca Pietromarchi l'ambasciatore Luca Pietromarchi allora torniamo a Whitmore lui sarà cofondatore e direttore dell'istituto bizantino d'America incontra però negli Stati Uniti un grosso favore da parte dei finanziatori perché aveva bisogno di soldi naturalmente e lui riesce a mettere in modo questa macchina straordinaria richiamando verso la Turchia specialisti di grande livello dagli Stati Uniti naturalmente però il primo passaggio fondamentale come dire lui diventa è già noto a Istanbul e nell'entourage di Ataturk gli viene affidato appunto il compito di intervenire in modo globale su Santa Sofia restaurando di nuovo appunto gli apparati decorativi in vista della sua trasformazione in museo quindi lui a questo punto ha un incarico diverso da quello dei fossati la chiesa che trova Whitmore appunto non è in quelle condizioni in cui l'avevano trovato i fossati negli anni alla fine degli anni 40 dell'ottocento l'intervento quindi sarà mirato appunto sul nuovo disvelamento e trattamento delle superfici musive a quel punto però l'intervento come dire viene progettato con un approccio metodologico completamente diverso una ricerca storico-archivistica indagini indagini diagnostiche anche sofisticate per quell'epoca ma soprattutto perché lui e poi lo farà anche il suo successore perché purtroppo Thomas Whitmore muore per infarto nel 1850 ma il suo successore Paul Underwoods diventerà poi il direttore di quel cantiere che continuerà ancora fino alla metà degli anni 60 chiama Lawrence Majewski un chimico di fama internazionale ma Majewski che sarà attivo a Santa Sofia ancora agli inizi degli anni 60 arriva in Italia a guidare la delegazione nordamericana che interviene subito dopo l'alluvione di Firenze già nel 1931 viene montato il primo grandissimo ponteggio straordinario il primo di legno poi seguiranno ponteggi molto più ingegneristici di metallo i metodi di intervento se ne farà anche una ricerca attenta appunto dai documenti oggi conservati Dumberton Hawks che eredita diciamo tutto il patrimonio informativo dell'istituto bizantino l'istituto bizantino viene chiuso a metà della seconda metà degli anni 60 per ragioni anche economiche e l'eredità passa appunto a questa istituzione culturale di grande rilevanza ecco tra i documenti per esempio si capisce la grande ricerca anche diciamo metodologica furono i primi per esempio ad utilizzare questa è una piccola chicca le attrezzature dentistiche per come dire per una pulitura di fino molto controllata una descialbatura una rimozione degli oli delle vernici di questi strati diciamo opachi e coprenti o semi coprenti dati dai fossati questo intervento sicuramente ha avuto una responsabilità importante in tutto quello che è successo dopo quindi diciamo dalla fine degli anni 60 al 1985 proseguono gli studi poi a un certo punto un'iniziativa importantissima del governo turco presenterà l'istanza per l'iscrizione della non solo di Santa Sofia di un complesso urbanistico della parte più importante storica della città di Istanbul nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità allora a proposito delle cose straordinarie delle precisazioni delle indicazioni che sei riuscito a diciamo a dirci a spiegarci dell'istituto bizantino e dell'attività di restauro ecco vorrei far vedere soltanto alcune immagini per capire un po' anche in concreto per visibilizzare quello che si trovano a dover fare i nostri restauratori americani per esempio cioè dicevamo appunto dicevo prima il sultano è costretto il suo malgrado a rivelare a rintonacare i mosaici cristiani ricoperti ma anche altre parti apparentemente meno disturbanti per l'uditorio musulmano vengono occultate dai fossati per esempio appunto le lunette i sottarchi del nartesce fondamentalmente dell'endo nartesce ecco il motivo delle tre croci che è quello che vedete sulla destra viene ricoperto con decorazioni geometriche cerchi oppure quadrati con diciamo altri elementi che occultano senza però distruggere il sottostante motivo cristiano ecco ancora per esempio molto carino mi sembra anche questo il mosaico sulla porta imperiale con il Cristo la Vergine l'angelo entro medaglioni e un imperatore rimasto ignoto nonostante i tentativi di interpretazione forse le non esesto o forse altri in proschinesis bene anche questo al tempo dei fossati viene rioccultato per cui gli restauratori dell'istituto bizantino si trovano davanti questa situazione o ancora e questa mi sembra ancora più indicativa nell'abside naturalmente la Vergine negli anni 1930 era decisamente occultata era nascosta con il motivo decorativo vegetale appunto apposto dai fossati e piano piano invece emerge fino a che appunto viene riportata la luce questo mi sembra molto interessante perché noi abbiamo intitolato questa nostra conversazione Mario Palinzesto un palinzesto storico-artistico Santa Sofia da museo a moschea e in effetti è un palinzesto in tutti i sensi abbiamo cercato di darne un'idea con le varie diciamo aggiunte stratificazioni nel corso dei secoli ma è anche un palinzesto in un certo senso anche per questo straordinario corredo diciamo di mosaici che appaiono e scompaiono vengono portati alla luce e vengono nuovamente occultati ecco ti lascio la parola ancora la documentazione straordinaria di questo istituto bizantino d'America come dicevi bene trasferita al Dambartonox consta anche di tanti calchi fatti a mano fatti dipinti a mano scusami praticamente come in questo caso e anche di 16 documentari allora ci sono 16 film straordinari che appunto di cui oggi abbiamo visto diciamo delle piccole parti significative a illustrazione di questo racconto ma gli americani fanno un'altra cosa alla fine degli anni 50 chiamano Cesare Brandi e l'istituto centrale per il restauro invierà un suo gruppo di restauratori per intervenire su alcune delle porte di bronzo bizantine di Santa Sofia e questo è un intervento importantissimo che sarà diretto da Carlo Bertelli poi se ne occuperà Alicia Vlad Borrelli insomma quindi importanti personaggi ma tutto questo appunto sempre nell'ambito dell'attività dell'istituto bizantino ma con diciamo il ruolo fondamentale dell'ambasciatore Luca Pietromarchi dunque sicuramente questo intervento americano ha avuto un grande peso per poi le iniziative di tutela che ha avuto Santa Sofia successivamente e tra queste importantissimo poi fu l'istanza da parte del governo turco per diciamo candidare l'area del centro storico di Istanbul di cui faceva parte Santa Sofia ma non solo anche San Salvador e ancora eccetera come sito UNESCO quest'area viene iscritta nel 1985 e oggi si pone un grande problema l'iscrizione appunto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità deve rispondere a dei requisiti ma viene sottoposta a un monitoraggio continuo da parte dell'UNESCO e il governo come dire che ospita questi siti che appartengono all'umanità intera deve garantire l'identità di questi siti e questo appunto è un elemento cruciale nella discussione che si è posta recentemente nell'estate del 2020 con la trasformazione in moschea di Santa Sofia e poi con quella successiva di San Salvador ancora ora subito interviene a luglio l'UNESCO con una dichiarazione della direttrice generale appunto che ricorda al governo turco l'importanza di come dire di attenersi a quei requisiti e a quelle appunto modalità ma la cosa che ho trovato interessante appunto in questi giorni riguardando le carte di tutta l'istruttoria di Santa Sofia che nel 2019 l'UNESCO aveva organizzato una missione tecnica a Istanbul e tra i vari siti che erano stati come dire oggetto di attenzione c'era San Salvador in Cora e la delegazione UNESCO non viene diciamo messa a conoscenza dell'istruttoria invece che il governo stava portando avanti e che risale proprio sempre dal 2019 e che poi sarebbe diventata entrata in applicazione durante l'estate del 2020 infatti il rapporto UNESCO parla come dire suggerisce degli interventi precisi ma di tipo tecnico sul restauro in corso ecco questa secondo me questo è un altro elemento che ci fa capire la problematicità di quello che è successo appunto quest'estate a Istanbul e non c'è stata neanche secondo me un'adeguata risposta internazionale il su San Salvatore in Cora si sono registrate molte proteste in Turchia moltissime proteste in Turchia c'è stata quasi più sensibilità per San Salvatore in Cora che per Santa Sofia ecco tu che ne pensi di ciò che è accaduto quest'estate e con questo io direi che ci congederemo ma come dicevo agli inizi Mario mi sembra un'operazione sicuramente l'han detto tutti i commentatori politici e così è è un'operazione politica quella di Erdogan che spera di riguadagnare il suo favore avendo una situazione disastrata da un punto di vista economico e forse anche di politica estera della Turchia un'operazione miope indubbiamente un'operazione che non tiene conto fondamentalmente della storia diceva Joseph Brodsky nel suo bellissimo raccolta di racconti Fuga da Bisanzio ci sono luoghi in cui la geografia provoca la storia bene uno di questi è senza dubbio Istanbul è senza dubbio l'antica Costantinopoli dove appunto voler riportare ad un parziale perché nel caso di Santa Sofia è un segmento molto parziale della sua storia significa poi di fatto impoverire ripeto questo monumento che è veramente patrimonio dell'umanità ecco e quindi in questo senso diciamo mi sembra un'operazione molto rischiosa molto miope e che comunque diciamo non è vero come è stato detto dalla stampa filogovernativa che di fatto non se ne avranno penalizzazioni ma se ne avranno e come nel senso che qui facciamo vedere appunto i fedeli all'atto della riapertura ufficiale il venerdì 24 luglio con questa folla sterminata di persone che sono state tenute a bada dalla stessa polizia perché insomma tra l'altro si rischiavano problemi igienico sanitari per il covid il redivivo sultano Erdogan con la moglie all'interno di Santa Sofia prima di questa solenne inaugurazione e trasformazione in moschea che è ufficializzata da una targa diciamo davanti all'ingresso che dice appunto Santa Sofia la moschea la grande Santa Sofia la grande moschea quando in realtà la denominazione è megale ecclesia cioè nasce come la grande chiesa e tutte le fonti noi sappiamo che la chiamano così dicevo Erdogan va con sua moglie a verificare che tutto sia pronto per diciamo la solenne inaugurazione bene a me quello che colpisce e lo mostro in queste foto tratte diciamo dalla stampa del tempo cioè del mese di luglio la famosa Teotokos simbolo vessillo bandiera della vittoria sull'ortodossia perché realizzata all'indomani della fine dell'iconoclastia è oggi malamente nascosta da questi diciamo veli che parzialmente la occultano e ancora lo straordinario spazio l'invaso spaziale di cui abbiamo cercato di dare un po' un'idea di questa chiesa che è davvero un'eccezione è un tauma come dicevano le fonti contemporanee oggi è assolutamente occultato reso opaco reso sordo in tutti i sensi da che cosa? da questo tappeto che in qualche modo uniforma ottunde e toglie esattamente quella vibrare della luce quella diciamo riflesso quello scintillio che appunto nella progettualità del committente e degli scienziati anti-militarali Isidoro di Mileto doveva caratterizzare appunto questo spazio come il bellissimo pavimento di marmo di marmo di marmo di marmo di marmo di marmo Grazie a tutti